Noi, ripeto, Radio Radio da sempre, almeno da quando la faccio io, sulla salute ci sta. Io ricordo sempre, adesso noi, così vi spiego un attimo, e lo voglio spiegare anche a Padovanne e Visnati che sono in collegamento, diciamo, tra poco, il dottor Giuseppe Di Bella, che è il figlio di uno dei più grandi scienziati del Novecento, che è il professor Luigi, uscirà con un libro, che peraltro sarà subito tradotto in inglese, esce con un libro dove mette, mi pare, di aver capito, io salirò con lui il 26, mi pare, il 26 va da Bologna, da Giuseppe, in questo libro, dunque, in questo libro lui mette 26 tipi di patologie tumorali, mette come vanno curate, scrive, diciamo, tutte le eventuali contrarietà che si dovessero incontrare step by step, e scrive anche, e lo consegna quindi alla scienza, tutto quello che si deve fare passo dopo passo. E perché lo scrive? Perché fa questo? Su 26 patologie, e non su tutte, 26, che comunque sono tante, per esempio, ti dico, il tumore della prostata, che è molto frequente, beh, io vi dico che ci sarebbe proprio il dovere, dovere scientifico delle autorità di andare a vedere, perché lui ha centinaia di casi curati totalmente sul tumore alla prostata. Adesso tocco un tema molto delicato, perché lo so che quando tocco questi temi tumore del seno, lui, io non so a quante centinaia di donne, non sono state toccate, né fatto nulla, se non la terapia di Bella, che si è evoluta tantissimo anche, il cui tumore in 8-9 mesi è regredito totalmente. Oh, ci sono, ce le ho viste io, ci sono le risonanze magnetiche, ci sono le ecografie, c'è tutto? Ok, quindi lui ormai ha 82 anni, pure lui, è arrivato a 82 anni pure Giuseppe, e quindi lascerà questa cosa qua. Io lo so che il tema è divisivo, il tema è molto delicato, e io vorrei veramente morire sapendo che si può fare, perché queste terapie qua sono di forte prevenzione, prevenzione, si deve prevenire, prevenire, oltre che curare. Ok, sì ho capito, l'Ucraina, siccome non abbiamo soldi, dice lascia perdere il confronto sanità-Ucraina. No, a me basta, mi dovete mettere i soldi sugli ospedali, sull'Ucraina fateli mettere ai paesi ricchi, noi siamo un paese povero, noi non possiamo continuare a mettere i soldi per l'Ucraina, voglio i soldi per gli ospedali, posso? Dici vabbè, ma noi facciamo degli accordi, ok, ma i poveri non possono far finta di essere ricchi, quindi noi rispetto agli Stati Uniti siamo una caccolina, tant'è vero che siamo diretti dagli Stati Uniti, noi non siamo l'Italia, l'Italia conta zero, contano gli Stati Uniti, quindi caro Biden, metti i soldi tu per l'Ucraina, e a noi per cortesia facci curare le nostre persone, se no veramente qui è un macello. Ecco, quindi sinceramente non... e non... vabbè, comunque... no, per dirvi che, insomma, ci sarebbe tanto da dire sulla salute, sulla sanità, ci sarebbe tanto da dire, tanto da dire se non ci fossimo anche lì politicizzati, gli uni contro gli altri, quegli altri contro quegli altri, e quello e quell'altro. Noi abbiamo passato gli anni della pandemia terribili, e purtroppo stanno venendo fuori delle cose gravissime, di persone che muoiono all'improvviso, persone che hanno i trombi, giovani, giovanissimi, problemi cardiaci, e noi dobbiamo dirlo, lo dobbiamo dire e li dobbiamo adesso tutelare, tutte quelle persone alle quali è stato obbligato qualcosa, vanno tutelate, invece sai che cosa sta succedendo? che quelle persone che si sono fidate e hanno fatto quello che dovevano fare, e adesso hanno grossi problemi, io ho per esempio in questo momento un mio grandissimo amico, peraltro lo conoscete pure voi, grandissimo amico mio, che ha problemi seri, 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 ma io sono convinto che non se lo filerà nessuno, perché non riconosceranno mai la correlazione, la famosa correlazione, ma quello che disse Montagné, Montagné si sta verificando in pieno, ecco per esempio una cosa che mi ha detto Giuseppe Di Bella, e io questa la voglio rendere pubblica, poi chi si fiderà si fiderà, ma io ve l'ho detto, ve lo dirò, lui ha messo giù un protocollo per tutte le persone che hanno avuto il Covid o che sono state vaccinate, la cosa gravissima che è stata fatta è che chi ha avuto il Covid l'hanno fatto vaccinare, vi rendete conto quello che ci hanno fatto adesso un po' a mente fredda, che chi ha avuto il Covid gli è stato imposto di vaccinarsi dopo, quando era già immunizzato, cioè non so se vi rendete conto la pazzia che è stata fatta totale, ma proprio una pazzia totale, dunque, quindi, Giuseppe ci darà un protocollo che è di poche cose che dobbiamo prendere, noi che abbiamo avuto il Covid e noi che siamo vaccinati, cioè praticamente il 95% degli italiani, per evitare a breve, medio e lungo termine delle problematiche, quindi ci dirà come ci dobbiamo comportare, poi dice io no, non lo faccio perché me fido, ognuno si fidi di quello che si deve fidare con la propria coscienza, perché qui io sono, per esempio, sulla storia dei vaccini sono stato sempre un free vax, io non sono no vax, io sono per la libertà, ma quello che hanno fatto imponendo, prima o poi, lo devono pagare, perché hanno messo il lavoro, hanno messo le persone, non potete capire quanta gente nel pubblico impiego ha problemi, mai come in questo momento ci sono problemi nelle forze dell'ordine, problemi di salute di migliaia di persone, quindi queste persone vanno tutelate e chi ha imposto l'obbligo è chiaro che deve pagare, qualcosa deve pagare, non può cavarsela, non se la possono cavare così, non se la possono cavare così, al di là del fatto, cioè io non ho mai condannato chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto, cioè per me la libertà in questo paese è il massimo, ho anche la sensazione che ci abbiano preparato in modo tale da capire quanto gli italiani siano in grado di reggere un tema di libertà e hanno capito che siamo delle merde, hanno capito che siamo gentarella, hanno capito che gli è bastato mettere paura per fare un casino, per coinvolgerci pure i giovani, i giovani, ma vi rendete conto gli sportivi non facevano fare sport, gli sportivi, i ragazzi, i ragazzi, perché non li mandavano nelle discoteche, maledetti, voi dovete essere maledetti, ecco, io la cosa spero che siate maledetti per aver fatto del male a tanta gente, per fatto del male, non del bene, del male. Quando salirò a Bologna vi farò sapere tutto quello che dobbiamo sapere, tutti noi che abbiamo preso il vaccino, tutti noi che ci siamo vaccinati, per evitarci delle problematiche che purtroppo stanno venendo fuori, soprattutto di trombi che si formano in modo serio, soprattutto chi ha fatto le tre dosi, chi ha fatto le tre dosi e le quattro dosi sta avendo, alcuni stanno avendo dei problemi. Io ho sentito qualche mattina fa che non sono riuscito a prendere la linea ma io Tozzi lo adoro, Tozzi lo adoro, ma l'ha chiamata una persona che si è vaccinata perché ha creduto in tutto quello e adesso ha gravissimi problemi, ha gravissimi problemi e Tozzi dice, cioè lo ha praticamente considerato uno dei casi e no Mario, no, per noi vale una persona, una persona non si, una, una diceva ma anche l'aspirina pure se prendi l'aspirina no, non c'entra niente, l'aspirina la scelgo io, il vaccino me l'hanno imposto e se tu me l'hai imposto non mi puoi dare delle contrindicazioni, zero, zero, perché se ti capita tuo figlio Mario, se ti capita tuo figlio non ragioni così, se ti capita tuo padre non ragioni così, perché noi parliamo sempre col culo degli altri, noi che non ci è successo niente pensiamo che tutti gli altri non sia successo niente e invece non è vero, e invece non è vero, quindi io ho sempre detto chi sta bene deve pensare a chi sta male nella sanità, siamo noi che stiamo pseudo bene, anche se avete visto io il 13 gennaio del 2023 pensavo che sta bene stavo per morire perché avevo la coronaria ostruita dell'82%, quindi non è vero che stiamo bene, stiamo bene così, bisogna vedere se stiamo realmente bene e noi che stiamo pseudo bene dobbiamo pensare a chi sta male e dobbiamo preparare il nostro paese a quando noi staremo male perché arriverà un giorno dove sicuramente la malattia qualcosa capita anche a te che stai bene adesso, questo dobbiamo fare, invece la politica ci ha diviso quello contro quell'altro, quell'altro contro quell'altro, quello di destra, quello di sinistra, quello di Amelloni, quello della Sline, no veramente dai, ma su alcuni valori dobbiamo essere tutti uguali e dobbiamo veramente ricostruire, questo è un paese demolito ragazzi, questo è un paese demolito,